Buon pomeriggio, sono le 13.30, oggi è il 2 di luglio, una diretta in un orario un pochino anteriore rispetto al solito, ma posso già anticiparvi che domani saremo in diretta Facebook alla solita ora, alle 14.30. Io vi ricordo di condividere, piggiando sulla freccetta che vedete sotto la mia faccia, questa diretta e poi anche di condividere eventualmente successivamente il video che resterà sul mio sito www.ivanscalfarotto.it, su YouTube e naturalmente sulla pagina Facebook. Domani sarò nuovamente a Milano, 14.30, non vado a Roma prima di mercoledì perché come sapete questa settimana non si tiene l'aula di Montecitorio, non ci sono provvedimenti da parte del governo da discutere, quindi la prima riunione sarà mercoledì in commissione, per cui domani sarò di nuovo qui. Questa sera invece sono a Mantua, esattamente a Pegognaga, dove si tiene la festa provinciale dell'unità, per cui se siete a Mantua e dintorni vi aspetto alle ore 21 a Pegognaga, appunto per un dibattito sull'innovazione, le sfide della modernità che ci troviamo a dover discutere. Ma in realtà io volevo aprire la nostra diretta di oggi con quattro nomi di quattro donne che sono Maria Benedicta, Ayomide, Raffaella e Libania. Sono le quattro ragazze che ieri a Tarragona in Spagna hanno vinto la medaglia d'oro per l'Italia ai giochi del Mediterraneo. La loro foto con il tricolore è stata spammata su tutti i social media da tantissimi di noi. È una bella foto di quattro ragazze che hanno portato, tra l'altro se avete visto la gara, è stata una gara bellissima, dominata dall'inizio alla fine dalle nostre ragazze. Una foto che assomiglia molto all'Italia nella quale viviamo, che che se ne voglia pensare. L'Italia è già un paese meravigliosamente multiculturale, è un paese nel quale appunto la propria italianità non si guarda dal colore della pelle o dal cognome, ma si guarda dall'amore che si porta per questo paese, dal contributo che si dà alla crescita, alla prosperità, alla felicità del nostro paese. E queste quattro ragazze ieri ci hanno reso veramente orgogliosi stracciando le francesi e tenendo a distanza siderale le spagnole. Le abbiamo celebrate perché sono state fantastiche e vogliamo bene loro così, senza guardare a nient'altro. Tutto il contrario di quello che è successo invece ieri a Pontita, dove si sono appunto come sapete riunite credo una settantina di migliaia di persone, alcune provenienti dal sud. Io devo dire che questa è una cosa che un po' mi lascia perplesso perché come sapete io sono abbastanza mezzo sangue, ma sono cresciuto in Puglia, ho passato lì tutta la mia infanzia, mia madre è napoletana, quindi sono anche un tifoso del Napoli, sebbene la mia passione calcistica sia molto tiepida, ma insomma quella è la mia squadra. E non dimentico, non dimentico le cose orribili che Matteo Salvini e i suoi hanno sempre detto sulle persone nate e cresciute nel mezzogiorno. Non lo dimentico perché conosco il sud, ho vissuto, come ho detto, sono cresciuto lì e so che terre meravigliose, quanto talento, quanta gente fantastica ci sia. Il razzismo poi alla fine si declina in molti modi, lo si può anche riverniciare dicendo che non si è più razzisti verso un gruppo di persone ma verso un altro, ma in realtà quando sei razzista, sei razzista e basta. Qualsiasi cosa vada fuori dal tuo comune, qualsiasi cosa vada fuori dal tuo orticello, diventa comunque diverso da te e come tale è una minaccia. E quindi diciamo non sono convinto del cambio di posizione di Salvini rispetto al nostro mezzogiorno e mi chiedo come possano aver fatto persone dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Campania andare in dei luoghi dove solo fino a qualche mese fa si invocava l'aiuto dell'Etna o del Vesuvio perché appunto le persone fossero sterminate, non so quale altro verbo utilizzare. Però questo dimostra che siamo in una ubriacatura, diciamo che non ha nulla di razionale evidentemente, non è razionale l'uso del rosario. Salvini ha utilizzato il rosario, quel simbolo religioso di accoglienza, di pietà, di attenzione all'altro, bussatevi sarà aperto, questo è quello che dice il Vangelo. Io non sono cattolico, apprezzo il messaggio di pace e di accoglienza, ma lo dico sinceramente, per me il rosario non è un simbolo religioso nel quale mi riconosco e devo dire una cosa ancora più importante, non è un simbolo identitario nel quale mi riconosco perché è evidente che Matteo Salvini non dà nessun significato, nessun colore religioso a quel rosario, quel rosario è soltanto un simbolo di identità, questo deve essere chiaro, è un simbolo di identità etnica, cioè si dice io sono il rosario in contrapposizione al Corano o in contrapposizione ad altri libri sacri, allora bisogna comprendere che l'uso di quel simbolo religioso è un uso che tende a distinguere, tende a separare, non ad accogliere, non a riparare, non è un simbolo di pietà o di fraternità, è un simbolo di odio e di distinzione e quindi se non mi riconosco nel rosario come simbolo religioso perché sono un ateo agnostico, ancor meno mi riconosco nel rosario quale simbolo identitario per dire soprattutto ciò che non sono, perché quello è l'uso che Salvini ne fa e io credo che in quel modo lì tra l'altro separi anche dentro l'Italia perché appunto l'Italia è fatta dalle quattro ragazze che ieri hanno vinto la medaglia d'oro a pieno diritto, non soltanto dalle persone che pensano di avere un background, di avere quindi un'origine appunto cristiana e quindi bianca e quindi indoeuropea, caucasica, ma da tutte le persone che come dicevo collaborano e partecipano alla prosperità, alla felicità di questo nostro paese, perché vedete l'accettazione delle differenze in realtà ha anche un profondo significato sociale e anche economico perché si prospera quando il talento di tutti è utilizzato al massimo, quando tutte le persone che sono parte di una comunità sono messe in condizione di dare il meglio di sé a favore non soltanto della propria crescita individuale ma anche della crescita collettiva. Una delle cazzate, scusate io non dico quasi mai parolacce ma delle volte ci vogliono. Una delle scemenze che ieri Salvini ha detto, l'ha detta accusando la Coca-Cola, prendendola come esempio di quelle multinazionali che investono sul Pride, senza comprendere che se le aziende, le più grandi aziende del mondo, investono sulle differenze, lo fanno non per ragioni ideologiche, lo fanno per ragioni economiche, perché sanno che se dovessero vendere la Coca-Cola o altri prodotti soltanto alle persone che piacciono a Salvini, la Coca-Cola finirebbe col chiudere nel giro di poche ore, di pochi giorni. E ancora di più, se dovessero assumere soltanto lavoratori che piacciono a Salvini, la Coca-Cola e le altre grandi aziende chiuderebbero nel giro di poche ore, perché queste sono aziende che sanno che il talento è alla base della loro fortuna, sanno che ciò che rende un'azienda prospera è soprattutto la qualità del suo capitale umano. Il capitale umano non conosce barriere, il talento, la capacità, la bravura, la motivazione non sono bianche, non sono tutte abili, non sono solo eterosessuali, non sono soltanto cristiane, non sono soltanto maschi, diciamo così, possono venire dai settori più vari e le aziende che sono intelligenti, quelle che sono più capaci di produrre anche profitto, lo sanno e cercano il talento dappertutto, proprio perché il talento non conosce barriere, quindi la posizione di Salvini non è soltanto ottusa e anche economicamente insensata e noi come Italia dobbiamo essere in questo senso aperti appunto a chi ha il talento delle quattro ragazze che ieri hanno vinto la medaglia d'oro perché ha fatto bene a tutti noi e se non ci fossero state guai forse saremmo arrivati buoni ultimi in quella gara. Cosa dirvi ancora? Sapete che la Merkel vacilla, non è una buona notizia per noi, se Hofer il suo ministro degli esteri minaccia di far cadere il governo o comunque le ha dato tre giorni per arrivare a un nuovo accordo, ciò che viene rimproverato a Merkel è di non aver convinto gli italiani a restituire quei migranti che erano, diciamo così, illegittimamente passati verso la Germania, se Hofer vorrebbe che andassero in Austria, che l'Austria poi ce li rimandasse l'Austria che da oggi tra l'altro è presidente di turno dell'Unione Europea. Attenzione, ricordiamoci che dopo la Merkel può venire soltanto qualcuno più, diciamo così, incattivito nei nostri confronti ricordiamoci che l'Italia dal punto di vista delle finanze pubbliche è debole, noi abbiamo bisogno di flessibilità, abbiamo bisogno di poter investire danaro nelle infrastrutture e comunque in investimenti che rilancino la domanda, rilancino l'occupazione, ci stiamo mettendo in una condizione di isolamento che ci metterà in una grande difficoltà nei confronti della Commissione e del resto d'Europa quando il governo dovrà necessariamente chiedere flessibilità, questo è evidente, lo sappiamo perché mancano i numeri, sapete bene, dicevo che non abbiamo aula questa settimana perché il governo non è in grado di produrre decreti, disegni di legge, niente, ha soltanto fatto due provvedimenti, uno sulla fatturazione dei benzinai e uno sul tribunale di Bari, ma anche lo stesso decreto dignità di cui si parla molto sembra che sia stato e sarà sforbiciato che tutte quelle norme che dovrebbero esservi contenute sullo split payment, quindi sul pagamento dell'IVA, così come altre, oppure esempio le norme sul gioco d'azzardo che naturalmente andrebbero a ridurre le entrate per il Paese sono appunto oggetto di limitazione da parte del Ministero dell'Economia, sembra che vedremo un decreto dignità in versione molto light, questo è premonitore delle difficoltà che la maggioranza avrà nel mese di settembre quando bisognerà cominciare a delineare la nostra politica economica e quindi abbiamo un governo immobile fermo che non produce davvero sostanzialmente niente, si riuniscono e dal Consiglio dei Ministri non esce nulla e invece oggi è successo che due risultati, per così dire, a scoppio ritardato vengono fuori dai nostri governi. Sapete che con oggi si comincia a pagare la tredicesima a 3 milioni e mezzo di pensionati, lo dico soprattutto, anzi lo dico anche a quei compagni di partito che sostengono che i nostri governi siano stati, come si dice, meritocratici, preda o vittime del mercato, narcisisti, consumisti, i nostri sono stati governi che hanno fatto grandi operazioni di ridistribuzione del reddito, questo è uno di quegli strumenti che va sottolineato, andranno a aiutare 3 milioni e mezzo di pensionati ad avere maggior reddito e questo l'abbiamo fatto noi. E poi oggi sono usciti i dati sulla disoccupazione nel mese di maggio, sono dati impressionanti, la disoccupazione è scesa al 10,7 che è il livello più basso dall'agosto 2012, la disoccupazione giovanile al 31,9, livello più basso dal gennaio 2012, più 114 mila occupati rispetto al mese di aprile, più 457 mila occupati rispetto all'anno precedente, quindi sono ancora effetti delle manovre di politica economica del governo Gentiloni. Questo va sottolineato perché, vedete, ci sono proprio due Italie, un'Italia che vince con quattro ragazze con dei nomi italiani o più esotici e un'Italia di Pontida che ha paura e che si chiude in un recinto identitario, un'Italia che non riesce a combinare niente, quella di un governo che non produce nessun provvedimento e un'Italia che ha prodotto risultati, ora si può discutere sulla comunicazione, su quello che volete, ma tutti i parametri economici che abbiamo lasciato al paese sono tutti migliorati rispetto a quando abbiamo preso la responsabilità di governare questo paese. La verità è semplicemente questa, è indiscutibile. C'è un'Italia che vince, un'Italia che ha paura, un'Italia che ferma e un'Italia che produce risultati. Questo è. Io penso che alla fine la verità, come dire, ha le gambe più lunghe e quindi penso che noi dobbiamo esserci. Certamente spero che il congresso del PD ci sia perché abbiamo bisogno anche di un partito vitale e ben organizzato, ma abbiamo tante tante buone ragioni per credere nelle cose che abbiamo fatto e nelle cose che possiamo fare. Bisogna andare avanti, non tornare indietro. Ripeto, come dico sempre, niente coperte di Linus, visione, buona volontà, chiarezza, energia, gambe in spalla, pedalare. Io mi fermo qui. Ricordate di condividere questo video ancora una volta. L'appuntamento è a domani alle ore 14.30 in diretta Facebook e se invece siete in zona Mantova vi aspetto alla festa dell'unità questa sera alle ore 21. Ciao!